Sarebbero avvenuti 6-7 episodi inquietanti, così sono stati definiti dagli intervenuti, episodi sui quali sono state espressamente presentate denunce alle forze dell'ordine e per i quali le stesse forze dell'ordine hanno invitato il candidato sindaco Maurizio Oddo a non andare in giro da solo. Fatti circostanziati ma non approfonditi durante la conferenza stampa perché sono in corso indagini. Dalla richiesta di denaro in cambio di pacchetti di voti ai disturbi nei vari comitati elettorali della coalizione per finire alle lettere anonime e all'irruzione nella sede del Partito Socialista. Al di là di quanto avvenuto, hanno precisato i referenti della coalizione al sostegno di Oddo, è necessario che in caso di episodi similari accaduti ad altri candidati sindaco si faccia fronte comune nel denunciare pubblicamente tentativi di inquinamento della democratica campagna elettorale. Ho registrato in questi due giorni la solidarietà di tutto il panorama politico, questo ci conforta, vuol dire che c'è consapevolezza della gravità degli atti che sono stati compiuti. Io convido che anche l'opinione pubblica abbia assolutamente preso consapevolezza del rischio di alterare il confronto e di alzare i toni su un piano addirittura della illegalità. Noi non vogliamo assolutamente fare una caccia alle sceghe né fomentarla perché questo esagererebbe ulteriormente il clima, però è del tutto evidente che noi avvertiamo il pericolo, lo sottolineiamo, che siano in corso in questa città, in questo momento, tentativi di alterare questo confronto come mai in passato. Qualche fatto può capitare durante una campagna elettorale che i toni magari si alzino, ma in questo caso sta accadendo qualcosa di più grave, perché diverse azioni intimidatorie sono state fatte direttamente al sindaco Oddo, sono stati fatti nei confronti del Movimento 5 Stelle, sono stati fatti nei confronti del Partito Socialista, quindi questa cosa ci allarma molto. Abbiamo naturalmente denunciato tutto, dal primo giorno alla Digos, alla Questura, quindi invitiamo eventualmente le altre forze politiche, che piuttosto che riempirsi la bocca con certe dichiarazioni, di fare altrettanto. Davanti ad atti intimidatori di violenza come questo tipo non si deve invece sottovalutare. Quindi noi meritiamo il rispetto, tutti meritano il rispetto e crediamo che in questo Paese uno debba fare politica senza che nessuno si possa permettere di andare a minacciare una forza politica o addirittura, come è accaduto anche a noi del Movimento 5 Stelle, che persone si siano presentate chiedendo in cambio del proprio voto dei soldi. Volevo fare solo una precisazione, nel senso che la campagna di oggi, la conferenza stampa di oggi, è a mio avviso un atto dovuto soprattutto per la società civile e soprattutto per la comunità degli ericini che rispetto e quindi dobbiamo evitare a scanso di equivoci qualsiasi linea interpretativa sbagliata. Io rimando al mittente chi dichiara in queste ore che stiamo tentando di strumentalizzare una cosa gravissima che è accaduta nei confronti della coalizione ma anche nei miei confronti personali. Grazie a tutti.